Sì, aspetta che ti carico subito. Buongiorno a tutti, ci vengo a ringraziare il granuto per il Signor Pace e il mio padre per essere qui e la mia moglie che mi ha sopportato in questi giorni. Avrei piacere iniziare questo discorso mostrando quattro foto, una via o l'altra. Lo giudificio Centurini 1855. Giudificio Centurini, scusate, l'anificio Lube 1855. L'anificio Centurini 1879. Acciaglieria, fabbrica d'armi 1875. Saffat 1879. Perché ho voluto mostrare queste cose? Perché sin da quando sono ragazzo, andando in poli termini, andando in altre città, mi chiedevo, dove vieni da Termini? Ah, città dell'acciaio, città dell'industria. E diciamo che la città, parlando degli anni 90, è principalmente conosciuta per questo motivo. E questo lavoro nasce dalla necessità di mostrare il verificio.